Here we go Buonasera bella gente Buonasera bella gente E soprattutto grazie Breno Per aver fatto la sub Per il terzo mese Beh devo dire vediamo Al momento siete tutti Siete tutti molto positivi Dite tutti che non aumenteremo Il dead count stasera Quindi per stasera Rimarremo sui due Come potete vedere Qua di fianco al nostro teschietto Quindi Per ora State pronosticando Sul no Ok Aspettiamo solo la fine del pronostico Ok Il pronostico dice che stasera Il dead count rimarrà sul 2 Bene 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 Allora Cominciamo Cominciamo bella gente Allora Partiamo con Il riassunto della puntata precedente Siamo schiattati Siamo schiattati Fine del riassunto della puntata precedente Per la seconda volta di fila Allora Cercando un attimo di Fare un riassunto Un pochino più Diciamo un pochino più lungo Allora La scorsa settimana Avevamo iniziato La puntata Dove eravamo Più o meno Schiattati La settimana precedente Cioè a Castelfranco A Milaia Alla ricerca Di Ser Guastaldo E la secchia rubata E siamo andati a Castelfranco Perché abbiamo seguito Le tracce di un cavallo Senza un chiodo Nel momento in cui siamo arrivati a Castelfranco Siamo andati alla Alla locanda principale Di questo paesino E mentre andavamo a dormire Ci siamo intrufolati In una camera dove E dentro ad una vasca da bagno C'era la bella gnoccante Che abbiamo salvato Da Ustione sicura Esattamente Un paio di sere precedenti La gnoccante Si è rivelata Essere Scusate che vado a cercare Il nome È una divinità E Omi La divinità Omi Che era la divinità Della Della bellezza E dell'amore E ci ha ringraziato Per averla Per averla salvata E Ci ha donato Una Ci ha dato un bacio Che non ha fatto altro Che Rafforzare Quello che era Il Il potere Della canzone di Alagilla Che abbiamo ottenuto Nella prima Nel primo libro Detto questo Abbiamo passato la notte E siamo ripartiti Siamo ripartiti Siamo scesi Passando per La strada Che da Demona Va A Gnovila E Qua abbiamo Incontrato Un Un mercante Che ci ha Consigliato Di scendere E andare Verso E Di superare Il Ranapo Dall'altra parte Probabilmente avremmo incontrato Qualcuno Giunti Giunti Al Ranapo E Abbiamo trovato All'87 Delle informazioni Che ci indicavano Che il nostro Fuggitivo Era Si era fermato Appena prima Del Del ponte Rotto Del nero Del nore Ok Al Punto 107 Noi cosa abbiamo fatto Avevamo abbastanza giorni Siamo andati a Ceppaia Abbiamo ottenuto La testa Di un'ascia E a quanto pare È esattamente La testa Dell'ascia E dell'ascia magica Che noi stiamo cercando E Siamo praticamente Sfuggiti Ad una trappola Fortunatamente E Poi siamo ripartiti E siamo andati A Campo dei Buchi Perché Era Fondamentalmente Una delle poche E Uno dei pochi Luoghi In cui potevamo andare Potevamo andare Il 401 Superando Cisti Potevamo andare A Campo dei Buchi Potevamo andare Al 127 Abbiamo deciso di andare A Campo dei Buchi Qui Abbiamo Incontrato I frati Che cercavamo Cioè Cercavamo i frati Di Sansugno Ma Nel momento Di Di un rituale Di questi frati Noi abbiamo Deciso Di tirare fuori Quello che è Il Il croce fisso La reliquia Il croce tau Dei frati Sberleffi Il problema è Che San Sberleffo È esattamente Il santo Opposto E il santo Avversario Di Sansugno Quindi Questi fraticelli Hanno deciso bene Di darci un sacco Una sporta Di mazzate Come si dice Dalle mie parti E Praticamente Per richiamare Il paesino Che c'è di fianco Che è Polleggio E Praticamente Ci siamo Da quante botte Abbiamo preso Da quante saccagnate Abbiamo preso Abbiamo passato Un anno Credendo di essere Dei polli E fondamentalmente È Passato un anno La nostra Missione È È risultata Praticamente Finita Abbiamo perso La nostra missione Quindi Torniamo Al 256 Cioè torniamo A quello Che era Campo Dei buchi E Quindi Ricordandoci Che Praticamente Qua Campo Dei buchi Esatto Ci hanno saccagnato Per benone Breno Esattamente E Vediamo un attimo Se è già partita La notifica Di Twitch Per sapere No Ecco perché Siete in così pochi Perché non è ancora partita La notifica Di Twitch Adesso aspettiamo ancora Un altro paio di minuti Giusto per vedere Se Se qualcun altro Inizia ad arrivare Perché Al momento Al momento Siamo ancora qualcuno Manca ancora qualcuno Che di solito Partecipa Alle serate Vedo Breno Vedo Ailinon Vedo Vercingetorige Zio Mau Prime Allora Facciamo così E Riprendiamo Da quello Che è Il Da quello Che è il nostro Arrivo Alla pietra Ringadora Era di martedì Solitamente Sì Ma Allora Non abbiamo Cambiato giorno Per questa settimana Eccezionalmente Di giovedì Perché Martedì sera Io e il re Eravamo ospiti Dai ragazzi Della ciurmaglia Di One Piece Quindi Visto che io Occupo il martedì Non abbiamo Trasmesso E visto che stasera Era una serata libera Ho deciso Assieme agli altri ragazzi Di Praticamente Andare avanti Con La serata Libro Game È una serata Diversa Dal Dal solito Dal solito Giovedì Allora Ripartiamo Il viaggio termina Dopo circa Una Clessidra di cammino In un piccolo Avvallamento Riposa Una grande pietra Rubida Di forma Vagamente Rettangolare Larga Tre cubiti E lunga Circa sei Miratemi Scredenti La pietra Ringadora Declama Frate Petrone In tono Esaltato Miriamo Rispondono i Pellegrini In cor Qui Il primo Grande duce Di Demona Il Potta Ricevette La grazia Di vincere Gli gnalobesi In battaglia Fa eco Sorella Mazzapiuma Bene Figlioli Domanda Frate Petrone Chi vuole Fare ammenda Dei propri peccati Sulla pietra Ringadora Se ti offri Volontario Continua Al 345 Se fai finta Di niente E osservi Cosa succede Vai al 453 Se hai una crocetà O dei frati sberleffi E vuoi mostrarla Alla congrega Vai al 65 Ecco Diciamo Che i frati sberleffi Ci hanno già portato A Alla morte Ok Quindi Non mi sembra Il caso Di andare Di far rivedere Il Certo Spina Nicola Grazie mille E Praticamente Evitiamo di mostrare La congrega A questo punto Faccio partire Per voi Un Grazie mille Spina Nicola A questo punto A questo punto Faccio partire Il Sondaggione Sondaggio Nuovo Sondaggio Che famo Ragazzi No La croce Non la Non la facciamo Vedere Ci offriamo Volontari Oppure Umarelliamo Un minuto Un minuto A voi La scelta Allora In gergo Che cosa Vuol dire Umarellare 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 Diciamo che È un È una parola In slang Per dire Che facciamo Gli umarel Quindi ci mettiamo Lì a guardare Gli altri Che sacconano Di mazzate Quello che decide Di Di fare Il volontario Sì 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 Mettiamo in sovrimpressione Tutto Bravo Grazie Breno Per Avermelo Fatto Ricordare Allora Io ragazzi visto l'ultima volta Che ci hanno sacconato di mazzate Io umarellerei Io farei l'umarello Non so voi ma io farei l'umarello Io guarderei gli altri che vengono Che vengono sacconati Visto che l'ultima volta Non è stato Molto comodo Ok Abbiamo deciso di offrirci volontari Continuiamo al 345 Io Io mi offro esclami Tutti i pellegrini si voltano A guardarti stupiti Compresa sorella mazzapiuma Mentre frate Petrone ti sorride felice Lo sapevo ragazzo mio Lo sapevo Vieni avanti non avere paura Sei condotto di fronte alla pietra E preparato per il sacro rito espiatorio Frate Petrone Ti fa togliere le brache E rimani a sedere nudo Di fronte a tutta la congregazione Ma questo per qualche motivo Non ti imbarazza Poi sorella mazzapiuma Ti unge il posteriore Con una generosa dose Di sugna di sansugno Bene figliolo Ti dice frate Petrone Ora sei pronto Siedi sulla pietra ringadora La pietra è fredda Freddissima E molto scomoda Stai seduto sopra di essa A gambe concerte Per moltissimo tempo Senza mangiare E senza bere Il sole sale in cielo E inizia a discendere Mentre intorno a te I pi pellegrini Intonano canti Di ogni tipo Improvvisamente Ti gira la testa E noti Qualcosa Di fronte a te Sono degli oggetti Che appaiono E vanescenti E che puoi vedere Qui sotto Bene Vi faccio vedere Gli oggetti Qui sotto 345 Qua Ok Questi sono Gli oggetti Qui sotto Un gufo Con Che occhi mi guarda Biaschichi Le frecce Con quante punte E quante Code Continui E ora La collana Trapunta di gemme Termini Improvvisamente La testa Smette di girarti E torni lucido Incredibile Hai avuto una visione Esclama frate Petrone Rivelaci il significato I pellegrini ti guardano Pendono dalle tue labbra E capisci Che devi dar loro Una spiegazione Alle tue farneticazioni Nella visione di sopra E' nascosto un numero Se lo trovi Vai al paragrafo Corrispondente Se non ce la fai Continua Al 474 Ok ragazzi Qua c'è l'immagine A voi La risposta La risposta Allora Un attimo che Ingrandiamo l'immagine Abbiamo un gufo Delle frecce E una E una collana E c'è un numero Nascosto Nella Mia visione Quindi guardando Quest'immagine E ricordandovi La visione Che ho appena avuto Dobbiamo Trovare un numero Mai morti Così tanto E male Come in questo libro Allora Eilinon Ti dico questa Io ho un mio amico Che Questo libro L'ha giocato prima di me E lui E' morto Sette volte Prima di concluderlo Quindi Diciamo che A noi c'è andata Decisamente di culo Al momento Perché per ora Ne abbiamo solo due Di Di count Allora Un gufo Tre frecce Tre gem Vediamo 133 133 133 No 133 No Non è questo Ricordatevi Quello che ho detto Prima della visione La visione parlava Di un gufo Sì Ma su che cosa Puntualizzava Parlava delle frecce E puntualizzava Su un'altra cosa E poi Parlava Del Parlava Della collana E anche lì Puntualizzava Un altro dato Non sto a ripetere Era Era importante Stare Stare lì Con la testa E le orecchie In quel momento Quella era la situazione Importante Provate a guardare Quello che sono Quello che è il disegno Se 133 È sbagliato Cercate di guardare A modo Il disegno Come sempre La risposta Sta nella domanda Vediamo Vediamo Devo tornare A rileggere Il La visione 7 Perché 7 Ah Tu dici 1 più 3 più 3 Ehm No 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 La somma No 7 Tutta un'altra parte Il 7 Decisamente Un'altra parte Allora Vi torno A rileggere Quello che è il Quella che è la visione Vediamo se Fate Mente locale Vedendo l'immagine Un gufo Con che occhi mi guarda Le frecce Con quante punte E quante code E ora La collana Trapunta di gemme Direi che Adesso è palese Ve l'ho riletta Adesso è palese Il numero 11 Perché è 11 Allora Vediamo Se è 11 Ehm No 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 Non è 263 Vediamo Bravo Breno Il senso Della visione Mi è chiaro Anzi Chiarissimo Esclami sotto gli occhi Incantati Dei pellegrini Di frate Petrone Il gufo Indica la saggezza Che deve sempre guidare Un uomo Nel suo cammino Frate Petrone Annuisce Mentre sorella Mazzapiuma Ti guarda Arcigna E le frecce Con così tante punte E code Significano Che la ricerca Della verità E della fede È spesso Tortuosa E segue Cammini strani I fedeli Assentono Con vigore E le gemme Ti domanda Sorella Mazzapiuma Sospettosa Le gemme Sono il simbolo Di purezza interiore E rappresentano Il signore senza tempo Il suo figlio Morto per noi E la di lui madre La monaca Si fa sempre più arcigna Per quanto sia Ancora possibile Ma la terza Potrebbe essere Anche Santa Starnazza Ti correggi rapidamente Sorella Mazzapiuma Sorride gioiosa Si avvicina E ti schiocca Un casto Ma molto baffuto Bacio sulla bocca Al che Tutta la congregazione Applaude felice In quel momento Senti una voce Dentro di te Che ti parla Bravo figliuolo Hai superato la prova Ora sei mondo Ma affrettati La secchia Non deve tornare Al suo antico padrone Segui la pista Che conduce al ponte Ma fermati prima Ricorda di guardare Esattamente A metà strada Purtroppo La voce Viene smorzata Dalle congratulazioni Dei fedeli Che ti portano In trionfo Per tutto il campo Dei buchi Quando finalmente Riesci a liberarti Dalle loro effusioni Ti accorgi Di avere Il deretano Tutto piegato Per il lungo attrito Sulla pietra Perdi un punto energia Nessun punto Se hai il tratto Unto di sansugno Vediamo Vediamo se siamo Unti di sansugno Vediamo se siamo Unti di sansugno Unto di sansugno Quindi non perdiamo punti Guadagni un punto fatto Quindi andiamo A due Ok Sto tracciando in giro Fili Ok E se hai la nota di gioco L'ammenda Trasformala in L'ammenda effettuata Non abbiamo L'ammenda Adesso Saluta tutte queste P e persone E torna Al 400 Quindi ragazzi Ci siamo Giocati Ci siamo Giocati Lascia Lasciate che ve lo dica Ci siamo Giocati Lascia Perché la scelta Che dovevamo Prendere Era 435 Fare gli umarell E No così era 453 Forse Non mi ricordo 453 Dovevamo Umarellare Dovevamo umarellare Mentre gli altri Sacconavano Mentre sacconavano Qualcuno E a quel punto Avremmo Trovato Il manico Il manico D'ascia E avremmo avuto L'ascia completa Quindi ragazzi Ricordiamoci Che l'ascia Ce la siamo Lasciati Scappare Ok Quindi A questo punto Come avevamo detto L'altra volta Nei Nel tempo Che ci rimane Torniamo Esattamente Lo vediamo qua Era questo No Scusatemi Apro Qua 256 Quindi 1 2 Quindi è 1 2 3 Ok Arriviamo Esattamente Al dodicesimo giorno A quello che è Il 107 Cioè Come avevamo detto L'altra volta Ciò che Ci serviva Ciò dove Si era Fermato Il nostro Maledetto Inseguito Tra l'altro Ce l'ha appena detto Anche Sansugno Non per dirvelo Quindi Noi a questo punto Abbiamo A questo punto Abbiamo già la nostra Destinazione Il 107 Ok Quindi Posso Tranquillamente Chiudere Questa immagine Tornare qua E andare a 107 Allora Qua Ti trovi A metà strada Tra il ponte Di Gnovila E il ponte Della Selva Grande È un posto Familiare Questo Uger Sei proprio Nel punto Dove Ser Guastaldo È uscito Dalla selva Molti Giro di Orosono C'è ancora Il passaggio Che ha lasciato Il suo cavallo Uscendo dal folto Ma Guarda un po' Ci sono Tracce fresche Proprio Nello stesso punto E in senso inverso Vuoi vedere Che quel vecchio trombone È tornato Nella foresta Passando proprio Di qui? Non deve essere Stato facile Con il senso Di orientamento Che si ritrova Scende di sella Conducendo il cavallo Per la briglia E te inoltre Nel folto Dopo poco Trovi Un lembo Di stoffa Azzurra Pendolare Da un rovo Appartiene Al mantello Di Sarguastaldo Ne sei sicuro Non ti sfuggirà Sei nella foresta Dei Ruschetti Cavaliere Della porta Oramai Molto Molto Vicino La tua preda Vai Vai Alla mappa Al 250 Ricordando Che entri Nei boschi Dalla radura Al paragrafo 112 Allora Quindi Andiamo All'immagine Eccola qua No Immagine Vertica Orizzontale Allora ragazzi Siamo arrivati Alla foresta Dei Ruschetti E Il nostro punto Di partenza È qua È il 112 Ok E Fondamentalmente Ci hanno unto Il sedere E Non siamo Abbiamo avuto Delle visioni Ma abbiamo perso L'ascia Fondamentalmente Ci siamo persi L'ascia Perché Se avessimo Guardato Gli altri Mentre Sacconavano Sacconavano Praticamente Qualche Qualche frate Noi Avremmo Ottenuto L'ascia E invece Abbiamo ottenuto L'asta Dell'ascia Ma invece Abbiamo deciso Di Sederci Sulla pietra E avere la visione E quindi L'ascia Ahimè Non la potremo Più ricostruire Detto questo 112 C'è il punto Di partenza Allora Intanto 250 Scusate Leggiamo Prima Il 250 Ti trovi Nella foresta Di Ruschetti Uger La parte Orientale Della selva Grande Dove speri Finalmente Di trovare Ser Guastaldo Ma perché Mai dovrebbe Scappare In un luogo Del genere È un bosco Fittissimo Molto antico E pericoloso Brulicante Ne sei sicuro Di bestie Feroci E creature Maligne Glielo chiederai Non appena Riuscirai Ad acchiapparlo Per muoverti Nella foresta Fai riferimento Alla mappa Che trovi Dopo il paragrafo 252 Che è questo qua Che abbiamo E che abbiamo Qua davanti No no L'ascia Non abbiamo incontrato L'asta L'asta Che ci serviva Quindi fondamentalmente Non abbiamo l'ascia Abbiamo solo la testa Dell'ascia Come vedi Su di essa Sono segnati Dei numeri Nelle varie radure E sentieri Che rappresentano I soli punti Transitabili del bosco Quindi puoi muoverti Soltanto attraverso essi A meno che Il testo Non indichi diversamente I sentieri Sono molto stretti E non permettono Di passare a cavallo Sei quindi costretto A lasciare la tua monta Al punto di ingresso Cancellala Dalla nota di gioco Quindi Via Il cavallo Il ciso Il destriero Il ciso Legato a un albero Vicino a una bella macchia D'erba fresca Vedrai che non patirà Sei arrivato qui Il testo ti avrà indicato Da quale punto di ingresso Sei acceduto alla foresta Quindi Inizia l'esplorazione da lì Potrebbe accadere Che il testo Ti dica Di crocettare il paragrafo Corrispondente a una certa locazione Nel qual caso Ricordati di farlo O sul paragrafo stesso O sulla mappa Detto ciò Cos'altro possa dirti Se non Buona caccia Bene Allora Andiamo Al 112 Perché il 112 È fondamentalmente Il nostro Punto di partenza Eccoci Qua Se in un'era dura Non molto grande Riparata dagli alberi Un cavallo Che riconosci essere Quello di Ser Guastaldo Pascola poco lontano La bestia è stata Leggerita della sella Che giace poco lontano Ne trisce Piano piano Felice di vederti Se vuoi esaminare l'animale Vai al 326 Se vuoi cercare Tracce di Ser Guastaldo Vai al 442 Altrimenti Torna la mappa E decidi cosa fare Allora Intanto la mappa La vedete qua Voi la potete vedere Noi siamo qua Al 112 Allora Facciamo partire Un sondaggio Cosa facciamo Controlliamo Il cavallo Cerchiamo Ser Guastaldo Oppure mappa Vediamo Mettiamo la domanda Che famo A voi La risposta A voi la scelta Vediamo cosa decidete Al momento 1 per cerchiamo 1 per cerchiamo Ser Guastaldo Quindi andiamo a cercare Le tracce Vediamo Siamo partiti Per ora 1 per cerchiamo Ser Guastaldo 0 per controlliamo 0 per controlliamo il cavallo E 0 per la mappa Ancora nessuno Che decide 2 a 1 2 a 2 Quindi 2 per controlliamo il cavallo 2 per ser Guastaldo 4 a 2 In questo momento Mancano più o meno 20 secondi Avete ancora Un po' di tempo Per fare la vostra Scelta 4 a 2 4 su controlliamo Il cavallo 2 per cerchiamo Ser Guastaldo Una decina di secondi Ancora ragazzi Avete ancora La possibilità Di cambiare il risultato Quindi O analizziamo Il cavallo Oppure andiamo a cercare Delle tracce Ok Andiamo a controllare E andiamo a esaminare Il cavallo 326 Ti avvicini al cavallo Che ti annusa La faccia amichevolmente Gli fai un paio di carezze Sul muso E lui nitrisce felice Vedi che è stato cavalcato Senza nessuna pietà E la povera bestia Adesso è molto stanca Meno male Che nella radura Avrà tempo di riprendersi Dai un'occhiata Alle bisacce E le trovi praticamente vuote A parte Un pane tondo Che se vuoi Puoi prendere Quando lo mangi Quando lo mangerai Ti farà recuperare Due punti di energia Quindi E Noi in questo momento Siamo a Siamo a 21 Però vi ricordo Anche che fino adesso Ci hanno praticamente Vuotato Un po' di cibari A venire fino qua Quindi io Il pane Me lo prenderei Giusto per sicurezza Che ne dite Tanto ce lo prendiamo Poi quando sarà il momento Ce lo mangeremo No Pane Tondo Più due Energia Ok E poi torniamo Al 112 Quindi il cavallo Ormai L'abbiamo controllato Ciao ok Quindi il cavallo L'abbiamo controllato A sto punto Andiamo a cercare Le tracce di Sergio Astaldo Poi nel caso Cercheremo la mappa Prima guardiamo le tracce No Allora 442 441 442 Tichini al suolo E cerchi tracce Di un passaggio recente Specie in prossimità Dei due sentieri Che si ripanano Nella radura Travi impronte Di stivale E di un bastone Usato per appoggiarsi Sul sentiero est Non sono molto vecchie Al massimo Di un giro di Ti stai avvicinando La preda Uger Torna Al 112 Allora Ragazzi Il sentiero est È quello Che Dal 112 Fatemi vedere La mappa Se c'è Una rosa Dei venti Non mi sembra Però Essendo il punto Il 112 E Est Vuol dire Andare verso Il 143 Quindi Quello Se noi lo vogliamo seguire Dobbiamo andare Verso 143 Allora Faccio partire Un sondaggio Nuovo sondaggio Direzione 143 143 Quindi andiamo verso Quello che sembra Un blocco di legna Tagliata Una radura Tagliata nel bosco Oppure 75 45 A voi La scelta A voi La scelta Allora Le tracce Le tracce Dicono Verso Il 143 Le nostre tracce Vediamo che cosa Decidete voi Siamo quasi 1 a 1 Ok 1 per 143 1 per 75 Siamo a metà tempo Avete ancora 30 secondi Per rispondere Vediamo 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 Stasera Siete più lenti Del solito Siamo quasi Alla fine E avete votato Solo una volta 10 secondi Ancora Non hanno votato Nessuno Ok Vediamo 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 3 a 1 Per il 75 Ok Quindi Andando verso il 75 Noi abbiamo deciso Di ignorare Completamente Quello che era Il Quello che erano Le tracce Lasciate Da Ser Guastaldo Ok Quindi La nostra direzione Va verso il 75 Ok Allora Metto un po' Di Qua Ok Ti trovi In una bella radura Inondata dal sole Al centro della quale Svetta una quercia Molto antica Con le radici Coperte di muschio E i rami Carichi di ghiande Ormai quasi mature Se non fossi così Di fretta Auger Sarebbe l'ideale Per stendersi E schiacciare Un pisolino al sole A quanto pare Non sei l'unico Che ci ha pensato Tra le radici Noti La coda Di una volpe rossa La coda rossa Di una volpe La quale Appena ti vede Scompare nel buco Se vuoi raccogliere Un po' di ghiande Vai al 414 Se vuoi tentare Di acchiappare la volpe Vai al 226 Se dopo tutto L'idea di schiacciare Un pisolino sotto la quercia Non ti dispiace Vai al 132 Altrimenti Torna alla mappa Allora Facciamo ovviamente Partire Un sondaggio Che facciamo? Raccogliamo le ghiande Cacciamo la volpe Non cacciamo Cacciamo con due c Cacciamo la volpe Dormiamo Oppure andiamo via Sempre un minuto A voi La scelta Raccogliamo e cacciamo Hanno ricevuto immediatamente Un voto Raccogliamo Due Tre Tre per raccogliamo Uno per cacciamo Dormiamo Se ne frega nessuno Andiamo via Neppure Tre a due Al momento Due cacciamo Due raccogliamo Tre raccogliamo Vediamo Vediamo Avete appena superato la metà Avete ancora più di 20 secondi Quattro a due Per raccogliamo Vediamo 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 Quattro a due Quattro a due Quattro a due Quattro a due Uno Vediamo 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 Ancora una decina di secondi O poco meno Ormai ci siamo Ci siamo Ci siamo Ok Raccogliamo le ghiande Quindi Andiamo al Quattrocento Fischiettando Tichini raccogliono Un po' di ghiande Non sai come Ma ti assali Il ricordo Di averlo già fatto Da ragazzino Quando pascolavi Maiali nel sacanto Sovra pensiero Infili in bocca Una ghianda Inizia a masticarla Che schifo È amarissima Se vuoi mangiare Queste ghiande Dovrai tenerle a mollo Un po' nell'acqua Comunque Segnali sulla scheda Del personaggio Come Manciata di ghiande Quindi Segniamo sulla scheda Del personaggio Manciata di ghiande E poi torna al 75 Quindi a questo punto Al 75 c'è Caccia la volpe Dormiamo O andiamo via Allora Di nuovo la domanda Volpe Letto Via Che famo? A voi La risposta A voi la scelta Volpe Dormire Oppure andare via Vediamo 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 Al momento Due per la volpe E uno per il via Allora Tre Uno Tre per la volpe E uno Per andare via Manca poco meno di 20 secondi Vediamo 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 Stasera vi vedo poco partecipi Tre Due Tre due Vediamo Vediamo Quattro Due Ok Quattro per la volpe E due per il via Quindi 226 Ti inginocchi tra le radici della quercia E infili il braccio nel buco dove si è introfolata la volpe Non può essere andata molto lontana Deve essere per forza lì dentro L'hai presa L'hai presa Uger O meglio Lei ha preso te Nel senso che ti ha morso una mano Ritiri il braccio E vedi che la mano addirittura sanguina un po' Perdi un punto energia Perdi un punto energia Ma questo non è il peggio Quindi Un punto energia Quindi da 21 Andiamo a 20 Il peggio È che devi annotare che dopo aver visitato un'altra locazione dopo questa Prima di procedere con la successiva Dovrai andare al 330 Quindi quando andremo alla prossima locazione dopo andremo al 330 Quindi aspettate che vi faccio un segno Dopo il prossimo luogo 330 A questo punto Lascia stare le volpi e torna al 75 Cosa dite ragazzi? Dormiamo o andiamo via? Vediamo cosa vi scegliete Torniamo a fare il sondaggio Dormiamo Oppure via Via sondaggio Uno per dormiamo Uno per via Due per dormiamo Uno per via Due a due Tre per via E due per dormiamo Quattro a due per via Siamo meno della metà del tempo Abbiamo ancora 30 secondi ragazzi Abbiamo ancora Poco ma adesso meno della metà Quattro a due Quattro a tre Peggio della volpi e non c'è nulla Eeeh Secondo me Stasera Aggiorniamo il death count Non so voi Non so cosa me lo dice Ma secondo me stasera Chi ha votato per Chi è stato ottimista Secondo me Non lo sarà pertanto Ok andiamo via Quindi Torniamo Al Alla mappa A questo punto qua alla mappa I luoghi da poter scegliere Sono fondamentalmente tre C'è No in realtà sono quattro Perché c'è il 332 Questa chiesa qua C'è Il 125 Che è questo Corridoio Questo pezzo qua C'è il 112 Quindi torniamo indietro Per andare magari al 143 Al 143 scusate Oppure c'è il 60 A voi la scelta Quindi Torniamo a dire Le opzioni Opzioni Tornare indietro Quindi chiesa Cioè scusate Quindi il primo spiazzo 112 Poi La chiesa Che è al 332 Il sentiero Che è il 125 Oppure Andare al Crocevia 60 Fermo restando Che una volta fatto Il prossimo luogo Andiamo al 330 Via Avete un minuto Per scegliere A voi la scelta Uno per la chiesa Uno per la chiesa Uno per il crocevia Vediamo Due per il crocevia E uno per la chiesa Due a due Due per il crocevia Due per la chiesa Vediamo 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 Ancora metà 3 a due 3 sulla chiesa E 2 sul crocevia Ci serve un miracolo Andiamo in chiesa Ci sta 3 a due Manca una ventina di secondi Ragazzi Alla chiesa Alla chiesa potrebbero curarci Può darsi 4 a due Per la chiesa 4 a due Per la chiesa Vediamo 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 Ok Quindi la scelta È ricaduta Sulla chiesa Quindi andiamo Al 332 335 327 329 Ok Questo edificio Uger Sembra proprio Un monastero Vecchio E cadente Forse Ma comunque Massiccio Chissà Chi lo ha costruito Qui nel cuore Della foresta E perché Cautamente Fai un giro Attorno all'edificio Ma non vedi Altri ingressi Se non quello principale Si tratta Di un grande Portone Di legno scuro Rinforzato Da bande di metallo Sull'architrave Della porta Qualcuno Ha inciso Nella pietra Quanto segue Rana Prima Fuit Prima Fugge la rana Interessante Chissà cosa Significa E Allora Un attimo solo Che guardo Se ho caricato L'immagine Perché altrimenti Se non l'ho caricata Ciao core Ve lo far vedere Che palle Quello fa così Allora Vediamo Un attimo solo Questo è il 332 L'avevo fatto Ma che Allora Allora Vabbè Tanto mi ricarico Questa Scusate Il Disguido Ok Allora Vediamo Se ne avevo caricata Un'altra Con lo stesso Ad ogni modo Ad ogni modo L'immagine Che c'è È Questa Vi ricorda qualcosa? L'abbiamo già incontrata Questa immagine Allora Poi dice Chissà cosa significa Comunque Vediamo di entrare La porta ovviamente Chiusa E Fatto ancora più strano Non ha una vera serratura Al suo posto C'è una strana fessura Che ricorda Che ricorda Dalla forma Una piccola croce Credo che Se vuoi entrare In questo posto Ti devi inventare qualcosa Se non ti viene in mente Lascia questa locazione E continua Il tuo viaggio Tornando al 250 Allora Ricordi Vediamo Noi Allora Intanto c'è Questo qua Che è un calzino Strano E Non siamo British La volpe ha fatto Noi XP Sì Più che noi la volpe Esatto Sì sì Cioè la volpe ha fatto noi Ma a parte quello Cioè La volpe ha preso degli XP Sicuramente A parte L'emoticon Allora Siamo qua davanti Siamo Davanti A una porta Che è una Fessura A forma di croce E noi qualcosa Qualcosa Tra gli oggetti A forma di croce Ce l'abbiamo Non è una testa Da sciaruginita Ma è la croce Tau Dei frati Sberleffi Quindi Potrebbe essere Qualcosa legato Ai frati Sberleffi Che già una volta Ci fecero Ci fecero Tanto Bene Meno 20 Esattamente Quindi A questo punto Sì Gli sberleffi Loro Quindi a questo punto Meno 20 Da 332 Andiamo a 312 Ok La fessura Ha proprio Le dimensioni Della croce Tau Dei frati Sberleffi Che ti è stata donata Dallo strano fraticello Fuori de Mona Vuoi vedere che Appoggi la croce Alla fessura E si incastra Perfettamente Con un leggero scatto Il portone si apre Scricchionando Sui cardini vecchi Davanti a te Davanti a te C'è un corridoio Che odora Di muffa Pipistrelli E stranamente Di cipolla Facendoti coraggio Imbocchi il corridoio Che Dopo molte svolte E passaggi Ti conduce Nel cuore Dell'edificio Questo posto È disabitato Da molto tempo A giudicare Dai festoni Di ragnatele Che pendono Dal soffitto Che rendono Tutto un po' Spettrale Per un attimo Ti sembra Di sentire Un rumore Dietro di te Ti volti Di scatto Ma non c'è Nessuno Calmo Ger Non essere Così nervoso Sarà stato Un topo Il corridoio Termina Davanti All'ingresso All'ingresso Di un'ampia Stanza Probabilmente La cappella Del monastero Qualche passo Indietro Sulla parete Est del corridoio Si trova Una porticina Di legno Chiusa Se vuoi entrare Nella cappella Vai al 235 Se apri La porticina Di legno Vai All'83 Allora Ragazzi Abbiamo Una scelta Sondaggio Che famo Entriamo Nella cappella Vediamo Se stavolta Me lo fa partire Oppure Porticina A voi La scelta No Non me lo fa partire E mannaggia Lui Allora 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 Chiesetta Visto che non gli va bene Cappella Mannaggia Lui Allora Vercingetorice Il primo Libro Di questa Saga Si chiama Il cavaliere Della porta Lo abbiamo giocato Nel Un paio di mesi fa E sul E sul nostro canale E sul nostro canale Youtube Trovi Tutto quello Che è stato Quella che è stata La nostra avventura Le opzioni Le opzioni Sono tante Perché veramente Le possibilità Di gioco Di questi libri Sono veramente Tantissime Però Devo dire Che Cioè È una di quelle Saghe Dove le puoi giocare E rigiocare E ti ritrovi sempre qualcosa Di Di nuovo Che non hai mai affrontato In questo momento Siamo 1 a 6 Quindi punteggio Tennistico Per la porticina Quindi direi Che andremo All'83 Quindi apriamo La porticina Di legno 83 Apri la porticina E scopri Di essere Nel refettorio Del monastero Qualcuno qui Deve abitare Di sicuro Perché il cammino Sta scoppiettando Allegramente Accanto a esso Si trova Un grosso vaso Da notte Che chissà chi Deve aver distrattamente Lasciato qui Ma la cosa Veramente sorprendente Ti aspetta sul tavolo Dove è stato Approntato Un banchetto E' enorme Una vera montagna Di cibo Il tavolo E' apparecchiato Per una sola persona La tua pancia Sta brontolando Come una pentola Di fave saltarelle E stai già salivando Quindi Se non intendi Sederti al tavolo Devi chiudere la porta Ora E lasciare subito Questa stanza Tornando al 312 Se invece Vuoi sederti E mangiare Vai al 440 Allora Ragazzi Che facciamo Mangiamo O andiamo A voi La scelta Via Vediamo che cosa Decidete 2 a 1 Per mangiamo Al momento Neanche partiti E siamo 2 a 1 Per mangiamo Non liberiamo Altri demoni E sono demoni Vediamo Al momento Siamo 2 a 2 2 per mangiamo 2 per andiamo 3 a 2 3 per andiamo E 2 per mangiamo Ancora Ancora 20 secondi Quelli che vogliono Far mangiare Il nostro personaggio Possono ancora Rivaltare O altrimenti Quelli che sono Per l'andare Possono spingere Per andare 3 a 3 3 a 3 ragazzi Non fate scegliere me 3 a 3 Vediamo chi fa la scelta Vediamo chi farà la scelta 3 a 3 Allora 3 a 3 Io faccio ripartire Il sondaggio Ragazzi Perché questa è una scelta Che non posso fare io Quindi io Rifaccio Rifaccio ripartire Rifaccio partire Eh Avete fatto I ponzi Pilati E invece Sto giro La risposta La date 2 a 2 Siete partiti Ancora Un po' più cattivi 2 a 2 Sempre in pareggio Brotti bastati Testiamo la coerenza 3 a 2 per mangiamo Vediamo Vediamo 3 a 3 Eh dai eh Siete in 17 E votate in 6 Dai ragazzi 3 a 3 Di nuovo Maledetti 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 4 a 3 per mangiamo Qualcuno ha votato in più Ok Allora All'ultimo secondo Qualcuno ha votato lì Quindi Se vuoi sederti E mangiare Continua al 440 Allora Guarda che rumore Allora Questo posso staccare Andiamo al 440 Ok Eccoci qua ragazzi Questo È il 440 Non puoi resistere a tutto questo bendito Ti siedi Ti siedi a ferri coltello e forchetta E Benvenuto amico mio Senti una vocetta provenire dall'altro lato del tavolo La riconosci subito È quella del fraticello che ti ha dato la croce tau dei frati sberleffi Il piccoletto è poco più alto del tavolo E porta come sempre il cappuccio alzato Benvenuto nel monastero di San Sberleffo Esclama E con gesto sacrale Si scopre il volto È lungo Affilato Con un nasone appuntito Ma questo dura soltanto un attimo Il volto del monachello inizia a mutare Come se fosse di cera liquida E dopo poco Ti trovi di fronte la tua stessa faccia Non è un manager È un monacello Una specie di spiriti burloni Tipici di laitia Capaci di tirare i peggiori scherzi Solitamente non sono malvagi Soltanto dispettosi Ma c'è qualcosa Nello sguardo di questo monacello In particolare Che non ti convince per nulla Se sei arrivato qui Fin qui Cavaliere della porta È perché devi affrontare la grande prova di San Sberleffo Esclama il fraticello Ma veramente io me ne starei andando Provi a dire Silenzio E ascolta Miscredente Tuona lui Devi sapere che San Sberleffo Patì il martirio Per colpa di San Sugno Imprigionati assieme Nelle segrete di Demona Molti anni or sono Quando San Sugno Venne portato Dopo molti giro di digiuno Nella sala di tortura Affinché abbiurasse la sua fede A fratelli Sberleffo Suo compagno Fu portato in cella A un banchetto E questo perché? Non lo so Nessuno lo sa Taci e ascolta Si infuria il piccoletto Comunque Fratelli Sberleffo Mangiò tutto Come era dovere Di buona educazione E quando San Sugno Tornò in cella Non torruvando più nulla Pazzo per la fame Uccise E divorò il povero Sberleffo Che Senza colpa Visse il martirio Beh Proprio senza colpa Non direi Dici Senza colpa Dico E senza colpa è Comunque Hai poco da scherzare tu Perché Sanz Berleffo Mi ha parlato Qui Nella mia testa E si picchetta Il capo Con un dito Dicendomi che Tu dovrai Essermesso alla prova Per vedere Se sei degno Di recuperare la secchia E di sconfiggere Quel vile Di serguastaldo La secchia Serguastaldo Cosa sai di loro? Lo interrompi Interessato Te lo dirò poi Se riesci nella prova Ecco in cosa consiste Come vedi A questo tavolo Sono presenti Tantissime Pietanze Squisite Tra di esse Sono presenti Le tre Che Sanz Berleffo Mangiò come ultimo pasto Il giro di del martirio Serviti E mangia i cibi giusti Ma nell'ordine Nel quale Li mangia Sanz Berleffo Solo in quel modo Dimostrerai Di essere Degno Del sacro Stai per attaccare I piatti sbagliati Tre piatti Quindi prendi Il numero del primo Che mangi Sottrai Il numero del secondo Somma quello del terzo E vai al paragrafo Corrispondente Se ha senso Vuol dire che Sei riuscito nella prova Hai diritto a un Solo Tentativo Se provi Ma sbagli Paragrafo Torna qui E vai al 219 Se non vuoi partecipare Alla prova Alla prova E vuoi scappare Da questo pazzo Puoi provare a farlo Astuzia 10 Più 2 Se hai Il tratto Unto di Sansugno Quindi in questo momento Sarebbe Astuzia 12 Se hai successo Vai al 348 Altrimenti Non sei abbastanza veloce Da scappare E devi sottostare Alla prova Allora ragazzi Allora ragazzi Vediamo Che famo? Prova di Frate Sberle Di Sans Berleffo Fuggiamo A voi la scelta ragazzi Prova di Sans Berleffo Oppure Fuggiamo 1 a 0 Per la prova Di Sans Berleffo Vediamo 2 a 0 Per la prova 2 a 1 Qualcuno ha messo Fuggiamo Avete ancora più o meno Metà del tempo Vediamo 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 Più o meno 30 secondi Poco meno 3 a 1 Per la prova Possiamo Possiamo anche Fuggire Con la nostra Astuzia E Sì La prova Decisamente Difficile Decisamente 4 a 1 Per la prova 4 a 1 Quasi alla fine Nel tempo Ok 4 a 1 Quindi È arrivato Il momento Della prova Di Sansugno Allora Ragazzi Nella prova Di Sansugno Noi qua davanti Abbiamo E Qualcosa Che sembrano Delle penne E c'è Un 138 Poi ci sono Delle quagliette Che sembrano Un 83 Delle cipolle Che hanno Il 21 Poi c'è Lo zampone 434 Delle rane 158 Poi c'è Il 312 Che sono I tortellini Del riso 207 Poi c'è Delle pere Delle mele 96 Poi io al momento Ah 99 Delle tigelle Anzi Delle Scusate Non delle clementine Delle Crescentine Poi non vedo Altri numeri La carostata Non mi sembra Abbia dei numeri Allora Noi abbiamo Un solo tentativo Ragazzi E dice E dice che Dobbiamo scegliere I piatti dove ci sono Il numero Scegliere Tre piatti Nell'ordine E E dice Devi mangiare Tre piatti Prendi Il numero Del primo Sottrai Il numero Del secondo Somma Quello Del terzo Ok Quindi Quindi Vediamo Vediamo Che cosa Desidete Allora Scegliamo Primo piatto Ragazzi Allora Primo piatto Gamberone Dice Gamberone D237 Dice Tortellini Quagliette E frutta Quindi tu diresti 312 Meno 83 Più 96 Sì Molto probabilmente Ci sarà Una logica Molto probabile Mi tengo comodo Il Questo no Questo chiudo Questo chiudo Allora Il tovagliolo Ha Un Quello che sembra Un 1 E un 7 Ah no Scusate È un L Quindi è 57 Quindi Dovremo Dovremo Mangiare Quello che sono I piatti Del martirio Di Sanz Berleffo Nell'ordine Giusto 57 Dave Per cosa Dimmi un attimo L'ordine Di Idee Per cui Arrivi al 5 Anzi Prima al 153 Poi al 57 Tartellini Zampone E salame L'unico problema È il salame Dove lo vedi Col numero Ah ok Si è un C'è un 7 O un 8 Può anche sembrare Può anche essere un 8 Può essere un 58 Fammi vedere se è quello che penso io Scusate ragazzi Vado a vedere se ci ho preso Ok ragazzi E allora Vi faccio vedere il salame No Niente Niente roba di cui dissociarsi Che scatole Scusate No Il salame Non ha un numero 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 E il tovagliolo È 58 Probabilmente Cosa porta A 58 Allora Direi che dobbiamo scegliere Il primo piatto È difficile È difficile Questo è veramente difficile Questa volta Ragazzi L'unto di Sanzugno Vi ha portato a una prova Molto difficile Rana 158 La rana prima Come dice Key Twitch 158 Vediamo Se Quello che penso Io ovviamente Allora Prima il piatto Col coperchio A sinistra Quindi Voi dite questo 207 E Quindi Da cosa partiamo Da cosa partiamo E Ok Solo una cosa Solo una cosa Giusto per darti Una Una risposta Non è necessario Che sia Minore Di 158 Cioè Lui ti dice Prendi il primo numero Sottrai Il secondo E aggiungi Il terzo Il secondo Alla fine Della Sottrazione Il secondo Il numero Può Può anche Il numero Può anche Darsi Che Il numero Sia negativo A noi Quello che interessa È il numero Finale Ok Quindi fondamentalmente A noi interessa La fine Quindi A voi La scelta Alla fine Alla fine Il tovagliolo non è un cibo Ragazzi E ha anche un numero diverso Quindi Al momento Al momento vi chiede di decidere Tra tre cibi No Ormai siamo seduti Non possiamo uscire La decisione è stata presa Non possiamo andare indietro E tornare indietro sulla decisione Che avete preso voi Quindi E A questo punto dobbiamo prendere La prima decisione Proviamo a vedere il tovagliolo 58 Proviamo a vedere il tovagliolo 58 Allora Prendi in mano il tovagliolo Sovra pensiero Per nettarti la bocca E senti che ha un odore intenso Di cipolla Che sia un indizio Il butta che è venuto a farci un bel ride Salve bella gente Buonasera bella gente Buonasera a tutti quanti Allora Prima di andare avanti Breve spiegazione del punto in cui siamo arrivati Per tutti coloro Che in questo momento Hanno partecipato al ride Del butta Assieme al re Eh si c'era anche il re Lo so bene Allora Questa serata Come di solito Le serate del martedì Ma per questa settimana È una serata di giovedì E Giochiamo a un libro game E stiamo portando avanti Per la settima puntata consecutiva Il libro game La Che è questo qua Aspettate che Facciamo così Il torneo della regina bella E Della saga di Catacumbas Sono Due E Sono tre libri Questo è il secondo della serie Ambientati in Una Un'Italia Praticamente Medievale Però è un'Italia Fantasy Quindi non è Italia Ma è la Itia Questo libro game Praticamente Parla di Eh Un periodo Medievale Che è la contesa Della secchiera pita Tra due città In questo caso Demona Che è la controparte di Modena E Gnalobo Che è la controparte di Bologna E Noi Siamo Eh In questo momento Ci troviamo In una foresta Siamo quasi alla conclusione Del libro E Ci troviamo in una foresta Che si chiama La foresta di Ruschetti E stiamo inseguendo Colui che ha rubato Il Colui che ha rubato Praticamente La secchia Ok E Durante questa ricerca Siamo finiti All'interno Di una chiesa Abbandonata Questa chiesa Abbandonata Che è la chiesa Di San Sberlefo E Ci siamo seduti A questo tavolo Abbiamo Appena scoperto Che Polenta Violenta Grazie Polenta Violenta Ci sta esattamente Perfetto per il tema E Abbiamo Scoperto La storia del martirio Di San Sberlefo Cioè È stato martirizzato A Demona Facendogli mangiare Tre piatti Della Cucina tradizionale Demonese E Per poi Una volta Che è stato accompagnato San Sugno Suo compagno di cella Di nuovo Nella cella Il santo San Sugno Decide di Cannibalizzare San Sberlefo E ucciderlo Ora ci troviamo Davanti a Questo ben di dio Dobbiamo Scegliere Tre piatti In sequenza Prendere il primo E Sottrarre il secondo E aggiungere il terzo Il risultato Il risultato Sarà E Se sarà quello giusto Avremo passato la prova Se sarà Quello sbagliato Vedremo Cosa di Cosa ci dirà La La scelta Del Del frate Cosa sarà Cosa succederà Se sbagliamo Allora Noi in questo momento Abbiamo guardato Il tovagliolo Il tovagliolo Dice Lo rileggo Era il 58 Prendi mano Il tovagliolo Sovrappensiero Per nettarti La bocca E senti che ha Un odore Intenso Intenso Di cipolla Che sia un indizio Torna Al 440 E fai La tua scelta Ok ragazzi Siamo tornati Al 440 Quindi Fondamentalmente Dobbiamo Allora Torniamo un attimo A Qua Immagini verticali E magari Vi ingrandisco Un po' L'immagine Così Tanto A voi Oggi Il death count È proprio In mezzo ai maroni E noi Per non saperne Leggerne Scrivere Mettiamo Soprattutto Ok Allora ragazzi E Noi abbiamo Ciao Ci manca Ci manca 138 Ci manca il piatto Qua sotto Allora Noi A questo punto Dobbiamo decidere Tre piatti Il primo consiglio Che ci viene dato È quello Della cipolla Quindi noi ci siamo Puliti la bocca E abbiamo Pensato alla cipolla Che sia Che sia la fine Che sia l'inizio Può darsi di sì Può darsi di no Io ragazzi sono Sul vostra stessa barca Io sentendo Il fatto che Pulendoci la bocca Col tovagliolo E Il tovagliolo Sapesse di cipolla Mi fa pensare Che la cipolla Sia il primo Non il terzo Quindi Secondo me Dovremmo partire Dal Diciamo Dall'antipasto Più che partire Da quello Che è Il Da quello Che è Magari Un piatto Come le rane Che potrebbero Essere un secondo Le cipolle Sono il 21 Rane Pere Cipolle Sì 21 Se ti pulisci la bocca Qualcosa hai mangiato È vero Noi abbiamo sentito Un odore intenso Di cipolla E No no È cipolla Mi ho sentito Un odore intenso Di cipolla E Vediamo 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 se Facendo i conti Come dico io Io sarei L'avrei già sbagliato Due volte Dice la rana La rana Fuggiva Fuggiva Per prima Sottrai il primo Cioè Allora Prendi il primo Lo sottrai Sottrai il secondo E poi aggiungi il terzo Quindi rane per primo 158 Ok Ok Esatto Esatto Allora Ragazzi Io a questo punto Visto che sono un paio di minuti Che ci siamo sopra Faccio Partire un timer Faccio partire un timer Che può essere di 5 minuti Perché altrimenti Ovviamente E Se ci stiamo qui delle ore Cioè Abbiamo una prova sola Quindi Vi lascio Decidere tra di voi Sul Tra i commenti E io faccio partire Adesso Un timer di 5 minuti Partito Quindi ora tra i commenti Lascio a voi la scelta Di quella che potrebbe essere La scelta definitiva Una volta arrivati ai 5 minuti Suonerà il timer E la decisione che prenderete Sarà quella giusta Allora Quella giusta o quella sbagliata Sarà quella definitiva Allora Quindi al momento C'è chi dice 158 Quindi le quaglie 96 Le pere Per poi Arrivare Alle cipolle Alla fine Avete ancora 4 minuti E 10 secondi Sulla bocca pulita Alla fine Eh La bocca te la punisci A fine passo Ci può stare Vero Eh Questa è Questa è una È veramente una parte difficile In questo momento Siete Siete tutti quanti bloccati C'è il tovagliolo È un bel rischio In ogni caso Vero C'era l'odore Nel corridoio C'era il Il fatto di avere provato Di essersi puliti la bocca E Sentivate L'odore Sentivate sì L'odore Della cipolla E 158 Sono rane Mentre 83 Sono quaglie Eh Lo so Che tu eri per astuzia 12 Però in questo momento E La scelta La scelta La scelta è quella È quella che c'è qua Quindi Dovrete fare la scelta E vedere se la vostra Scelta È quella giusta C'è anche il cucchiaio a tavola Sì Allora Vediamo un attimo Allora Intanto sono passati due minuti e mezzo Siamo a metà del tempo 207 Quindi quello che parlate Che è quello che ho riso Vediamo 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 Continuate a Proporre Quello che è la vostra Idea Avete ancora due minuti Da adesso Per trovare Una Una quadra Trovare quello che potrebbe essere Il Il pranzo Anzi L'ultima cena Di sansugno Se Se ci prendete Se ci prendete Arriveremo a Ad aver superato La prova di sansugno Se non ci prenderete Vedremo adesso Quale sarà La Quale sarà la conseguenza Vediamo 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 Ovvio Se al termine Un minuto e venti Di sansugno Un minuto e diciassette Ormai siamo quasi al minuto Quindi fra un minuto Vorrò Sapere Da voi Nei commenti Un Un numero E' stato E' stato sansugno A insugnare Il fraticello Esatto Quindi 56 secondi Quindi manca Veramente Veramente Poco E avete Un numero Da scegliere Vediamo 45 Piatto o bicchiere Non hanno numero No Per avere un suggerimento Sul 2 Eh Non mi sembra 22 secondi 20 secondi Ora 499 207 83 Quindi Partire Dalle tigelle Scendere Al riso Per poi Andare Con L'83 Con le quagliette Ok Finito il tempo Ok Ora voglio Una risposta Da voi A quale Paragrafo Dobbiamo andare Al momento L'unica risposta Che vedo E' quella Di Breno Che dice 499 Sì 499 Meno 207 Più 83 Quindi Rane Meno Pere Più Cipolle 96 Le pere Allora ragazzi Vado Rane Meno Pere Più Cipolle Quindi 158 Meno 96 Più 21 83 Vediamo 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 cosa dice Il paragrafo 83 No ragazzi L'83 Non è E' il numero Da cui siamo venuti Perché Apri la porticina E scopri di essere Nel refettorio Del monastero Qualcuno ci deve Abitare di sicuro Quindi il numero E' sbagliato Quindi Abbiamo cannato La prova E andiamo Al paragrafo 219 219 Qua Purtroppo I piatti Dei quali Ti sei servito Uger Benché squisiti Non sono Quelli giusti Lo capisci Poco dopo Aver ingoiato L'ultimo boccone Senti che qualcosa Di bruttissimo Sta accadendo Dentro la tua pancia Il fraticello Senza proferir parola Ti indica Il vaso Va da notte Vicino al camino Adesso capisci Il motivo Della sua presenza Ti tuffi su di esso E Beh Il resto Puoi immaginarlo Il dolore che provi E' atroce Pari forse A quello patito Da San Sberleffo Lui però Almeno Non ha dovuto Sopportare Come te Un fraticello Intonante Canti sacri Mentre stava Mentre stava passando Miglior vita La tua avventura Termina qui Intestinalmente Tragica Quindi ragazzi Triplete Per la terza sera Consecutiva Per la terza sera Consecutiva Intanto Scegliamo il risultato E il risultato E il risultato E' stato Si Completiamo il pronostico Quindi il pronostico Era Chi ha votato Per no Ahimè Non ci ha preso Perché Purtroppo Siamo Schiattati Anche a sto giro Quindi 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 Aspettate che rimetto A posto Il Qua No Qua Qua Ok Quindi Mettiamo a posto Una cosa Mettiamo a posto Il debt count Quindi Proprietà Andiamo su tre Fatto In questo momento Siamo Saltati Per La terza Volta Quindi Essendo saltati Per la terza Volta Io Direi che La prossima Settimana Ripartiremo Sempre da qua Sempre dal 332 Quindi Partiremo dall'inizio Della chiesa Anzi Scusate 332 Era 312 Perché era l'inizio Una volta entrati Nella chiesa Qua Partiremo Qua Dall'inizio Della chiesa E Decideremo Dove Andare Nel corso Della Dove andare Nel corso Della missione Della serata Ok Allora Detto questo Detto questo Terza sera Che schiattiamo Di fila Ma ragazzi Bel conteggio Dai che andiamo avanti Così Quota 3 Detto questo Ragazzi Io direi Di Salutarvi Della chiesa Della chiesa Grazie a tutti